Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova edizione del TGPNRR. Oggi ancora una volta tratteremo la missione 5 inclusione e coesione. Nell'ambito del programma Piano Urbano Integrati sono presenti nuovi interventi in alcuni comuni. A Beinasco per esempio verrà realizzato un nuovo centro città in Piazza Dolci che diventerà un vero e proprio luogo della comunità culturale e sociale. Mentre per Nichelino c'è il nostro inviato, inviato Ismaele a te la linea. Eccoci qui Anna, ci troviamo a Nichelino in cui verrà riqualificato il parco urbano di via 25 Aprile per una struttura ludico-educativa e un centro polifunzionale per le famiglie. Ed infine per Moncaglieri passo la parola alla nostra inviata Chiara, Chiara a te la linea. Sì Anna, ci troviamo qui a Moncaglieri dove verrà ristrutturato e rinfunzionalizzato il teatro civico Matteotti. Lo spazio sarà dedicato soprattutto all'organizzazione di eventi legati al mondo della scuola, della cultura ma anche dell'inclusione sociale. Qui a Moncaglieri è tutto, linea allo studio. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima puntata del TGPNRR. Grazie